un saluto dalla redazione del gr asi in studio marco paganelli e guerra nella regione autonoma del nagorno caraba fra armenia e arzebaijan quest'ultimo ha lanciato nella notte tra sabato e domenica duri attacchi contro le postazioni nemiche fonti locali parlano di molte vittime tra la popolazione appello della russia ad un immediato cessate il fuoco la turchia condanna le ostilità avviate dall'armenia e parla di violazione delle leggi internazionali emergenza covid proteste sabato a londra nei confronti del nuovo look down che sta coinvolgendo oltre 10 milioni di persone nel regno unito 15.000 cittadini sono scesi a trafalgar square i contestatori hanno lanciato bottiglie contro la polizia che ha risposto usando i manganelli quattro agenti sono rimasti feriti 10 dimostranti arrestati e siamo allo sport formula 1 valteri bottas su mercedes ha vinto il gran premio svolto ieri a soci in russia seconda posizione per la red bull di max verstappen terzo il campione del mondo luis emilton sull'altra mercedes sesta la ferrari di charles clerc e per il momento è tutto grazie per l'ascolto ci risentiamo nel prossimo appuntamento del gr asi grazie a tutti